5.692.000 euro, poco più di un milione l'anno, è il costo complessivo per il funzionamento del Consiglio Comunale di Napoli nel quinquennio 2011-2016. Il dato è stato diffuso dal Presidente dell'Assemblea Cittadina, che dalla Sala Nunes di Via Verdi ha presentato alla stampa un resoconto dettagliato sulla consigliatura uscente. In particolare, il costo totale è composto da poco più di 4 milioni per rimborsi dei gettoni di presenza, 1 milione e mezzo per rimborso ai datori di lavoro dei consiglieri e 64 mila euro per rimborsi spesa ai consiglieri. Oltre 5 milioni e mezzo di euro, quindi, spesi nell'arco di 5 anni e non 6 milioni all'anno, come riportato da alcuni organi di stampa dopo le dichiarazioni di alcuni consiglieri comunali. Si passa al totale delle sedute, 144 quelle convocate, di cui 7 andate deserte per mancanza di numero legale e 26 sciolte per verifica della maggioranza in corso. Il report sulle attività del Consiglio mette in evidenza anche le percentuali di presenza dei consiglieri, ognuno dei quali ha un costo di quasi 20 mila euro l'anno. Nell'incontro con la stampa, il presidente dell'Assemblea cittadina ha sottolineato con forza la necessità, in futuro, di modificare il regolamento consigliare vigente e fermo ancora al 1973, una revisione che renda più agevoli i lavori dell'Assemblea e delle commissioni consigliari, migliorando anche lo strumento del numero legale e la costituzione dei gruppi consigliari.